Costa, Munari, palla arriva Maresca, parte il destro, attenzione Poli! Gol, gol! Gol di Poli! Ha stagnato, ha stagnato la Sampdoria! Ha stagnato Andrea Poli, primo gol in blu cerchiato, primo gol in blu cerchiato per Andrea Poli! È il primo gol in blu cerchiato per Andrea Poli! Primo gol che ne vale tanti però, questo è un gol che vale 10! Il tiro di Maresca è finito nei suoi piedi, è stato freddo e lucido a battere Frey! Diciamolo tutti insieme! È un atteggiamento giusto la Sampdoria! Diciamolo tutti insieme! Poli! Vai Maurito, vai Maurito, vai Maurito! È da gol! Gol, 2-0, gol! L'amoroso ultimo gol! Radoppio! 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 2-0 per noi! È successo di tutto, ma ha fatto tutto Maurito! Grandissimo lavoro di Cardi! Ha fatto tutto Maurito, poi la difesa... Grandissimo lavoro di Cardi! Poi è Bobo questo! È Bobo questo! Ha fatto un movimento straordinario! Ha resistito la... Mamma mia, Bobo cosa ha combinato! Sì, l'autogonio di Bobo, clamoroso! È dentro Icardi, Icardi, Icardi! 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 Movimento straordinario, poi ha avuto la freddezza al 42 del secondo tempo dopo una partita che ha speso come non mai di metterla dentro! Uomo derby, però! Sei il nostro nuovo idolo! Si chiama Maurito Icardi! E ha vinto il derby numero 105!